Cari italiani, cari italiani, dopo tanti mesi di attese e speranze è finalmente arrivata la cura. E proprio io, il vostro presidente, darò l'esempio, inoculandomi volontariamente il siero ancora sperimentale a sprezzo di ogni pericolo. Quindi, in diretta televisiva mondiale, a reti unificate, spero di non interrompere la ghigliottina su Rai 1, dove c'è il super campione Massimo, che vorrei tanto nominare Premier, perché mi sembra l'unico preparato in questo paese. Comunque, dicevo, vorrei che i luminari del Quirinale entrassero con il kit presidenziale di anticorpi. Buonasera, Presidente. Eccoli qua. Signor Presidente. Siete solo voi due? Sì. No, perché mi aspettavo un'equip più copiosa. 20-30 luminari. Eh, Presidente, ma con i tagli che hanno fatto la sanità. È già un miracolo che siamo qui in due, Presidente. Sì. Ma guarda, così è meglio. Cari italiani, così in questo momento difficile per il paese diamo un'immagine di sobrietà. Siete sobri voi due, sì? Ah, certamente, Presidente. Eh, certo, sì. Laureati e sobri. No, no, Presidente, io sono diplomato. Sei diplomato tu? Ah, infermiere e diplomato. Sì. Tu invece sei medico laureato. Eh, no, Presidente, non ho passato il test d'ammissione, mannaggia. Anche tu sei diplomato, quindi? Sì, certo, geometra. Geometra? Ma come, non sei neanche infermiere tu? No, quasi, Presidente. Mi mancano solo tre anni, però, eh. Tre anni? Ma quanto dura il corso? Tre anni, Presidente. Tre anni? Ma quindi tu cominci oggi? Sì, Presidente, oggi comincio. È il mio primo giorno. Ma quindi io sono la tua prima iniezione? Ah, sì, sì, sì. Infatti, Presidente, se può gentilmente... Ma è meglio, do da lavorare giovani. Lì inizio... Grazie, Presidente. Infatti, si può togliere gentilmente la giacca e arrotolare la manica. Io andrei a cominciare. Sì, con calma. Sì. Sono sempre il tuo Presidente. Sì, sì, lo so. Tu sei un geometra, per cui, dammi del tempo un attimo. Sì. Diciamo che come preparazione professionale sei nella media del governo. Per questo va detto, no? Grazie. Piccoli di maio crescono. Quale politica? La destra o la sinistra? Ma, beh, è uguale, Presidente. Uguale. Ma sì, è uguale. Stupido io, sono un ingenuo. Ormai destra e sinistra sono uguali. Aia! Eccolo qua, Presidente. Ma manco la camicia, mi sono tirato su. È stata l'emozione, Presidente. Mi scusi, sono andato. Comunque lo scusi, Presidente. Ma qual è l'emozione? La cosa importante, comunque, Presidente, è che adesso lei è ufficialmente vaccinato. Complimenti, Presidente. Eh sì, bravo. Però almeno fa mettere solo la manica. Ma quindi adesso sono immune? Sì. Ho finalmente gli anticorpi per questa piaga che tormenta il Paese e che ha sbloccato, che ha bloccato ogni speranza di ripresa. E quando mi farà effetto? Quanto ci mette fra l'effetto? Quanto ci mette? Presidente, non si sa quanto ci mette. E se il geometra, sai, non si sa, Presidente. L'aveste detto a un diplomato, dice. E non c'è il geometra. Diplomato, eh. Vabbè, facciamo un testo. Ora prendo una foto orribile. Una foto orribile del virus contro il quale mi avete vaccinato. E vediamo che effetto mi fa. Eccolo qui il virus. Il morbo che questa siera, miracolosamente, è serpato dal mio corpo. Guardate. Non mi fa più nessun effetto. Sto falsone qui, no? Sto falsone, non mi fa effetto. Sto irresponsabile, Vanesio. Sto egocentro con me calomane. Sono grandissimo. Presidente, Presidente. Fammi la seconda, va. Sì. Ah, ma tu, attorno. Ma se ne chiamo. Cioè, lui richiamo, sì. Richiamo, sì. Lui è un diplomato, ingegnere. E vabbè, un geometra e un infermiere.